E' finito di provocarlo? Io sto provocando E lo hai provocato, non hai accesso alla telecamera volutamente Lo hai provocato, tanto da poter avere poi delle risposte Che io mi rifiuto di mandare in onda Perché non devono essere... Mi rifiuto perché non ci sono Vedi come in galera si mandano le persone innocenti Ti ha provocato? No, a me, non a te Voi siete due veramente cattive persone Lo dico senza... No, perché ci... Allora, ti ho detto che... Tu sei chiunfamma di ieri No, tu sei chiunfamma di ieri Ma c'è questo capire lì E' sì, no, e' che devo? No, che tu capire, no, e' no Che credevo, che do Adesso ciò che la faccio con un ghiacca per l'ang Vedrai dovessi andare, riuscire ad andare ad allenarmi in palestra E quindi a formare la mia tempra Il mio fisico Non c'è il puttanato Eh beh, stavo... Ti volevo dire però che la scimmigabbia doveva essere lui No, tu che... Hai capito? La vuoi finire di dare corda? No, regia, voglio che mi vada le tuzze Da quanto tempo non te lo faccio, Tino Da quanto tempo non te lo faccio, tu la sei lunga Peccato che non la sai contare Fai mettere le mani in tasca Fammi vedere che cosa hai in tasca Non Fammi vedere che cosa hai in tasca Non, 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 non Fammi vedere Non Fammi vedere, se non hai da temere niente Fammi vedere che cosa hai in tasca Non, non, non Lello, fammi vedere che cosa hai in tasca Non, non E fammi vedere Non, non Fammi vedere Quelle cazzo le faudate Non, non, non Fammi vedere E fammi vedere Non, non fammi vedere se non è niente da temere fammi vedere foglietti quali ti posso dare che dobbiamo fare i pizzini che cosa scrivi su questi pizzini messaggi in codice a chi e l'altra tasca l'altra tasca svuotala che cosa è questo che me lo porto sempre insieme il caricatore e dove l'hai messo il caricatore nella farina c'è così che cos'è gli scherzati che non mi fanno niente di che niente di che l'ello occhio perché sei sotto strettissima osservazione te lo dico te lo dico chiaro chiaro che c'è 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 l'ho se lo vazzio c'è 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 l'ello sei su stretta c'è c'è non so con nessuno stretta non so con nessuno stretta l'ello io non sono del tutto convinto di quello che mi ha detto non ti sei imboscato niente non mi sei imboscato niente siamo sicuri sicuri mi stai dando la parola e ti do sempre la parola io d'onore tu mi manchi dicendo tutto quello che vuoi non vuoi a dici cd tu dottor ma mi investi completamente di solamente l'acqua mi stai dando basta ti ho messo non io i medici ti hanno messo a dieta perché hai esagerato che ci possiamo fare tra sei mesi quando vedremo i valori capiremo se puoi e poi mi dovrei prendere la cosa questa quando me le prendi eh questa quando mi le prendo che ti so di che sono del supermercato c'è la porta stretta a mio posto però adesso devo il cash allora tu hai detto tu sei scritto mo lì devo non non dico scusa ma non dico lo siamo a tutto lo sai a fare non lo sai a fare ecco su quello che mi hanno detto quindi ricapitoliamo ma il dolcificante sarebbe una cosa essenziale per la tua vita perché non puoi andare a perché io capito dolcificante essenziale tino senza dolcificante la gente muore muore che avessi di stare in zucco normale uso questo e poi è quello come te lo sei procurato ci dico a te poi me lo scordo chi è ho saputo come devo fare se lo dico a te me ne scordo io eh lo diceva la buonanima di mia nonna perché lello occhio a te occhio perché io ti sto facendo controllare da cis ho messo qualcuno le tue calcani ho assoldato qualcuno che possa capire se mi stai prendendo in giro e se vengo a sapere che mi stai prendendo in giro ho pagato qualcuno per sapere se mi stai prendendo in giro e ti dico che se ho dato compito di darmi una relazione entro il 18 di aprile ok se per caso questa relazione fa emergere che tu mi hai fregato il compleanno salta resti qua senza assolutamente nessun tipo di festa né a cassano né a toritto né da nessun'altra parte non nemmeno ci vengo quel giorno quindi perché aspetto il 18 di aprile se chi ho assoldato mi dà le prove che tu mi stai prendendo in giro il compleanno e non solo il compleanno salta te lo dico così patti chiari e amicizia io te lo sto dicendo poi se devi dirmi qualcosa me la devi dire entro il 18 aprile perché poi la ragioniamo diversamente hai qualcosa da dirmi no ho detto solamente che tu le cose con quelle del portafoglio degli altri tu vuoi entrare io non ti faccio entrare perché come si dice non sono nascita ma che tu sei nascita quello che mi ha detto tu non sei nascita ma che tu sei nascita che io non so nessuno questo è sicuro e nemmeno penso minimamente di essere qualcuno ma che significa questo ma chi quando dici cosa hanno detto chi lo dice non te lo dico se vuole girare se non te lo dico ok e cosa ti hanno detto cosa ti riferiscono ha detto vieni ancora dietro e io voglio cambiare più migliore ancora perché qua non mi piace perché non sono detenuto perché dove vedeva le porte si aprono e le vie e tutti mi stiamo facendo un po' pagano che da me che ti va a farneggio non è che puoi mangiare con un mutino e te e tutti i po' mi dalle dinde l'america dovrà finire non ho il pullman gratis come ce l'hai tu le metafore di lello sono metafore importanti metafore che spesso metà fuori l'altra metà pure fuori nel senso che spesso non calzano da nessuna parte però dico in realtà cosa avresti voluto significare cosa avresti voluto dire e niente che devi fare bisogna fare le cose concrete la concretezza la concretezza beh le cose di sostanza fatti non pugnette per piacere puoi controllare chi è no sono le belle ragazze che mi mandano vedi c'ho un gattelon di mano e li sto tolendo la vita ecco cosa è ciao come stai appuntamento alice 27 ma cos'è qualche sito di escort ecco ma a bulabun mi sono pensa quante cose porno vede che gli arrivano poi no io meccolo senza automaticamente scattano e lo so che qua scattano automaticamente quante più cose di un certo tipo vedi ma e poi ci vuole anche l'amica nostra lascia per e ti vuole far divertire a te no a me non vuole farmi divertire nessuno perché c'hai questa hai timore perché ti arrivo le lettere d'amore poi non ti accomodare fai Lello ragioniamo invece di questa cosa seria l'america è finita cosa vuol dire che io qua non voglio stare voglio stare vicino a te che ti devo dare fastidio enorme si e allora e patria babba che mi fai schifo ha detto così ha detto così c'è trattato veramente come l'ultimo perché siamo andati al vabbè se poi la faccio e io vamo e mi ha preso tutto per il culo a me no così qua la dove po 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 a tutta la sci a tutta la persin che dove vado faccio più figura io che non te come collega questo è grave però eh questo è grave mi stai sfidando non ti so sfidando però si vede si vede sono felice cancella perciò ripuliamoci un po' io non dico delle signore io vengo a te pure qua mi ripulisco da solo chi ti ha fatto la barba segandoti la faccia in quella maniera me la vedo tutta da solo caro ti è sfuggita non è sfuggita niente comunque torniamo e chiudiamo ma? se io entro il 18 non ho la verità da te e in quella relazione c'è scritto che tu mi hai preso in giro non ti ho preso in giro il compleanno salta qua non faccio niente no salta in generale nemmeno a Toritto te lo faccio festeggiare eh nemmeno a Toritto le io te lo sto dicendo e ti sto capendo patti chiari e amicizia nooo stiamo suggellando un patto d'onore non esiste ti stai rifiutando di suggellare il patto ti sto dicendo stringiamo un patto d'onore se tu non mi dici la verità entro il 18 e io vengo a sapere dalla persona che ho pagato anche profumatamente oh come no di quello che tu stai facendo come no se io vengo a sapere da questa persona che tu mi stai tradendo Lello Lello non hai idea delle conseguenze che potrebbero capitare a te non me ti sto avvisando io se voglio posso fare un'altra cosa di molto diversamente e sentiamolo e non lo dico no lo devi dire e non puoi sempre tirare la pietra e eh no no poi mi piangerai però mi piangerai dolori amari come dico io e perché eh perché sì tu mi stai minacciando pesantemente mi stai minacciando pesantemente no te lo devo fare come dico io attenzione attenzione nessuno me l'ha mai fatto eh e io te lo faccio che cosa mi devi fare e lo so che poi non avrai più scampo scampo non avrai più si deve preoccupare la direttora Forza eh Lello non avrai più scampo il tuo compleanno è appeso al filo della santa a te a te non a me a te a te non a me ricordatelo no tu ricordatelo se tu mi stai trattenendo no non ti sto trattenendo finirà molto male a te finirà molto male non a me perché io vado sulla ragione a tu e sul torto non è qui che diceva al terzo al terzo ti trattenerai no no non ti alzare a no situazioni che sono no hai capito Lello 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 il tuo compleanno dipende solo da te da me lo vuoi fare il compleanno qua no ma tu hai detto se tu lo vuoi fare il compleanno non mi prendere per il culo non ti prende per il culo se mi stai tradendo Lello no adesso ti ce la fai adesso si apre le cicangie no a me a me direttore della forgia ma chi è? un'altra esco direttore della forgia un'altra esco direttore della forgia si ricordi direttore della forgia che la birra non c'è comunque è insustata no 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 lui è la casa che Lello notizia ufficiale se entro il 18 mi confermano che non mi hai tradito birra comunque non ce n'è non manco un pottone no io non la voglio la birra ti sto dicendo che birra non ce n'è non ne manco un pottone ho capito che non c'è per me neanche per te no non ne manco un pottone eh hai capito che non c'è birra no non ne manco un pottone lo so che per me no io non la voglio la birra perchè tu come scantare ha lasciato le cam vado a andare mi faccio si vede a battezzare poi vado a casa di ballerina birra non ce n'è a te non manco un pottone birra non ce n'è a te non c'è a te non c'è eeeh allo puida a tua vita mogginbouk ah dj where a b te ��